Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime novità, ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Mancano solo 5 giorni e la Presidente della Commissione Europea, in corsa per un secondo mandato, dovrà bilanciare le esigenze politiche con grande cautela. Wunderleyen dovrà infatti evitare di alienarsi i verdi e, allo stesso tempo, cercare di guadagnare il supporto di Fratelli d'Italia. Il focus principale riguarda i 24 euro parlamentari di Fratelli d'Italia. Fonti ben informate suggeriscono che alla fine questi deputati potrebbero sostenere la rielezione di Wunderleyen, anche se l'opzione della stensione rimane aperta. La decisione finale dipenderà molto dall'incontro tra Giorgia Meloni e Wunderleyen, previsto uno o due giorni prima del voto. Sarà essenziale discutere del commissario italiano e delle deleghe che saranno assegnate all'Italia. Le negoziazioni tra il governo italiano e il team di Wunderleyen sono già in corso e si concentrano su quattro deleghe chiave. Concorrenza, mercato interno, affari economici e bilancio. Se Meloni riuscirà a ottenere una di queste deleghe, potrà presentarlo come un grande successo per l'Italia. La concessione di una di queste deleghe potrebbe cambiare gli equilibri interni della Commissione europea. Un punto di incertezza riguarda il nome del commissario italiano. Secondo alcune voci, Wunderleyen avrebbe già scelto Raffaele Fitto, attuale ministro per gli affari europei con delega al PNRR. Fitto ha stabilito un rapporto di fiducia con lo staff della presidenza della Commissione europea e con la stessa Wunderleyen. Tuttavia, la sua sostituzione rappresenta una sfida data all'importanza delle sue deleghe. La ricerca di un sostituto è in corso ma finora non ha prodotto risultati certi. Una delle ipotesi è che le sue deleghe vengano distribuite tra vari sottosegretari del governo. Il discorso di Wunderleyen davanti al gruppo parlamentare ECR e al Parlamento europeo sarà determinante. Meloni potrebbe decidere di votare a favore o di astenersi in base alle dichiarazioni di Wunderleyen. La posizione dell'Italia resta quindi incerta, a differenza di molti altri paesi UE che hanno già dichiarato il loro sostegno alla rielezione. Secondo te quale sarà l'impatto del discorso di Wunderleyen sul futuro dell'Unione europea? Credi che le concessioni fatte all'Italia possano influenzare il voto di altri stati membri?